Il colosso dello streaming Netflix, che a dicembre 2019 ha distribuito la serie televisiva di The Witcher, ha annunciato l'arrivo di un film d'animazione ambientato nell'universo dello strigo. Per conoscere tutti i dettagli sul progetto non vi resta che proseguire nella visione, ma prima vi ricordiamo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella delle notifiche per continuare a supportare EveryEye.it. Come hanno confermato i canali social di Netflix di tutto il mondo, la pellicola si intitolerà The Witcher Nightmare of the Wolf e sarà uno spin-off della celebre serie tv con Henry Cavill. Il film verrà prodotto presso lo studio Mir, uno staff coreano noto per opere come La Leggenda di Korra e il remake di Voltron Legendary Defender. La showrunner della serie, Loren Schmidt-Istrich e il produttore Beaudet Maillot, che lavoreranno al film anime, si sono espressi sul nuovo progetto. Il mondo di The Witcher verrà espanso in questo lungometraggio d'animazione, hanno detto, che esplorerà una nuova e potente minaccia pronta ad invadere il continente. L'arrivo dell'inatteso spin-off animato è stato comunicato il giorno seguente l'annuncio dello straordinario successo della serie tv, vista da ben 76 milioni di spettatori nel suo primo mese di trasmissione. Questo risultato ha reso la prima stagione di The Witcher il debutto più redditizio sulla piattaforma streaming. Per ora, purtroppo, non disponiamo di ulteriori informazioni, né tanto meno sulla data di uscita del film di animazione, tuttavia ci auguriamo che il valore produttivo del progetto sia paragonabile a quello della serie tv. Voi che ne pensate? Diteci la vostra nello spazio dedicato ai commenti. Grazie a tutti.